In questo fuseki tocca nero e come prosegue le ultime due mosse sono state nero che difende l'angolo e vivo questo bianco che lo chiude e adesso tocca nero secondo me è meglio qua. Cioè perché qua rischi il taglio. Ma l'idea è che questo gruppo di bianco non è che lo vuoi uccidere, vuoi fare in modo che faccia pochi punti secondo me perché facendo così è vivo. L'importante è che faccia pochi punti e poca influenza. Anche se qua adesso scappa di qua comunque tu hai influenza su di qua. Questo gruppo è forte, questo gruppo è forte. Ma il gruppo di bianco non sta poi così male. Però fa pochi punti. Sì, però si potrebbe ottenere qualcosa di meglio. Cioè se pensi a quanto è forte nero tutto attorno hai detto forte perché è vivo. Questa forma, questa forma un gruppo nero è vivo nell'angolo. Questo è chiaramente il gruppo che sta mostro. L'unica pietà in cui deve preoccuparsi un po' nero è questa, però ancora ha tanto spazio attorno. Sono queste tre bianche che sono un po' messe male. Per cui nero deve provare un attacco più importante. Si cerca di tagliare, di creare un attacco. Come si fa? Vieni, fermi te. Io spingerei dritto verso di te. E poi taglio. Qui? Si. E poi? No, poi taglio direi. E adesso? No, vabbè. Il bianco secondo me. Poi? Poi? No, vabbè. Se vi non toccare. No, no, tocca bianco. Non c'è un bianco. Sì, ando se ci vuole. Non è? Non è? Dipende. Ando poi magari ando qua qui e lascio vivere tranquillamente bianco, per fare qualcosa di qua. Però questa che continua a mettere in dubbio che bianco possa vivere, non mi sembra tanto sbagliare. Bianco? Viene. Bianco. dopo quel taglio il bianco non lo stanno adesso no, il bianco magari qui eppure vivo, però bisogna vedere però qui forse è morto però il nero può anche estendere e cercare di catturare quelle in grande scala se mi vorreste proprio catturare sul dito così però raramente delle mosse che catturano proprio così a piccola scala sul buio perché si rischia di prendere troppo poco troppo su momenti però sì c'è comunque anche l'altra possibilità che è bianco di quella di spingere l'ora questa è la mossa che non è giocata adesso però la cosa che mi chiedevo è se io spingo in su quindi bianco spingo così io non sto sfruttando la copertura di queste pietre forse forse sì quello fa qualcosa no no così meglio per nero però bianco potrebbe visto che bianco ha un problema cerca di salvagli entrambi può decidere di lasciare quello con questo per fare così per questo un po' l'amore con la tua signora è un po' l'amore con la tua signora e un po' l'amore con la tua signora